E vediamo questa intervista che è stata fatta a Gianni Scipione Rossi, un giornalista e scrittore che ha scritto un libro su Camillo Castiglioni, una singolare figura di imprenditore del secolo scorso che poi sarebbe il 900, il nostro secolo poi, e un self-help man. Vi saluto tutti, saluto l'ingegnere Stefano Ciafani, no, Marco Casonato dell'Ama, poi Carlo Montalbetti di Comieco e Stefano Ciafani di Legambiente. Gianni Scipione Rossi in questa intervista. Gianni Scipione Rossi, lo squalo e le leggi razziali. Vita spericolare di Camillo Castiglioni. Perché hai scelto questo personaggio? Chi era Camillo Castiglioni? È stato un grande personaggio, un grande imprenditore, un grande finanziere, uno degli uomini più ricchi d'Europa a cavallo della Prima Guerra Mondiale. Cosa ti ha colpito di questo personaggio? Beh, la straordinaria capacità di inventarsi cose. È un figlio della fine Ottocento, è giovanissimo all'inizio del Novecento, siamo nel periodo della Belle Epoque, siamo nel periodo della grande rivoluzione industriale. E lui si appassiona tutto quello che è tecnologicamente nuovo. Comincia fabbricando gomme, fa aeroplani, fa dirigibili, poi passa le motociclette, poi passa le ferrovie, poi crea giornali, poi fa anche molto di finanziere, fa banche, fa moltissime cose. Cade e risale, cade e risale fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il suo rapporto col Duce a un certo punto succede che si conoscono, lui chiede aiuto a lui. Come andò questa storia? Di Castiglioni non si può dire che fosse un fascista, si risulta e si sia iscritto al partito fascista nel 1935. In realtà è un fascista un po' per caso come molti. Per la sua posizione, assolutamente importante in tutta la mitle Europa, entra in rapporto con Mussolini. Ci parla tantissime volte, il problema è che come sempre o come spesso accade, quando arriva il momento cruciale della sua vita, che sono le leggi razziali, ovviamente Mussolini non gli risponde. Che cosa ci può insegnare oggi Camillo Castiglioni, anche ai nostri politici? C'è qualcosa che potrebbe averci... Ai politici non lo so, agli imprenditori molto, secondo me. È proprio questa capacità di inventare, di intraprendere, che ha sempre avuto, ripeto, ha fatto tantissime cose. E non ha mai mollato, ha sempre ricominciato. Se un'esperienza andava male, se ne inventava un'altra. Lui è stato in rapporto con banche americane, è stato, ripeto, ha costruito di tutto e ha intrapreso su tutto. Ha comprato cartiere, ha fatto affari con Agnelli, ha fatto affari con Morgan. Era uno che non si fermava mai. E' un po' la rabbia dell'imprenditore, la rabbia in senso positivo, cioè la capacità di andare sempre oltre, di inventarsi cose e di farle. Gianni Scimino, noi si cosa ha lasciato invece addosso a questo personaggio? Che cosa l'ha insegnato? Beh, mi ha insegnato una cosa che forse già sapevo, ma me l'ha confermata. Che la storia non si fa soltanto con il bianco e con il nero. Non c'è soltanto il bianco e il nero, c'è anche il grigio. Ci sono figure, storie personali, che rappresentano molto bene la complessità del Novecento. Il Novecento chiaramente è stato molto studiato, però lo si prende spesso a spezzoni. Il fascismo, la Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, la Belle Epoque. In realtà ci sono tante persone di valore immenso che hanno attraversato tutto questo. E che l'hanno attraversato con difficoltà e sono, con la loro vita, testimonianza di questa grande complessità.